salve a tutti e rieccoci qui nella nostra playlist sui personaggi di scacchi continuiamo a parlare sempre di scacchisti italiani e ovviamente non potevo tralasciare lui che è stato il re proprio del campionato italiano di scacchi stefano tatai romano classe 38 detiene il record di campionati italiani vinti 12 volte un record assoluto 12 volte campione italiano poi ha partecipato naturalmente alle olimpiadi ha giocato anche contro sergio mariotti che ho già parlato che probabilmente è stato il migliore scacchista italiano della storia almeno fino al momento poi tutto è possibile ha ottenuto poi anche ottimi successi contro i più forti in quel periodo oggi vedremo adesso una bella partita contro bent larsen ma anche una vittoria contro timan e anche altri ma quindi non cercherò di svelare tutto visto che poi dedicherò tanti altri video al nostro stefano tatai ci ha lasciato da poco lo sommato maggio del 2017 ha ottenuto il titolo ricordiamo di maestro internazionale non è riuscito a diventare gm perché era molto particolare poi la federazione scacchistica italiana ha attivato una procedura particolare però comunque a quei tempi le regole erano molto diverse forse più più rigide anche di adesso per diventare grande maestro ha scritto un libro sul gambetto jenisch lo schlima sarebbe quello della spagnola sapete con con f5 da parte del nero e poi anche ovviamente un libro importantissimo sulla variante neidorf siciliana intitolato tatai insegna la neidorf e magari vi porterò proprio le sue partite in cui si mette lui proprio a giocarla con ultimi risultati morto a teneriffio all'età di 79 anni nel 2017 e sicuramente insieme a mario monticelli dopo naturalmente sergio mariotti e anche qualcun altro come serfino dubois parliamo di ottocento sicuramente lui uno che ha vinto per 12 volte il campionato italiano di scacchi è tra i migliori e sarà sempre nella storia degli scacchi italiani vediamo adesso questa sua ottima sfida che si è giocata alla spalmas ricordiamo che poi lui ha frequentato le isole canari morto infatti a teneriffe quindi è vissuto molto in spagna larsen contro tatai il danese con i pezzi bianchi tatai con i pezzi neri siamo nel 1972 vediamo questo suo capo lavoro larsen apre con c4 stefano gioca c6 quindi dove si può entrare nella moderna quindi con d4 si può giocare anche l'est indiana sempre per trasposizione e qui decide lui di dare un approccio moderno proprio all'apertura inglese con g6 spesso si incappa infatti in trasposizioni larsen qui preferisce sviluppare il cavallo di donna così che non ostacoli l'avanzata del pedone che già in c4 alfieri in g7 e adesso come il giocatore tipico da inglese anche larsen apre il fianchetto per controllare il centro con i pezzi leggeri allora qui stefano rispondi lo chiamo per nome visto che è italiano mi prende un po questa confidenza anche se naturalmente non l'ho mai conosciuto troppo forte c5 quindi si rientra alla fine una trasposizione della famosa inglese simmetrica c4 c5 con poi un controllo iper moderno del centro alfiere g2 fianchettamento da parte di larsen qui segue cavallo in c6 dove nero prepara qui lo sviluppo dei pezzi in maniera assolutamente armonica per poi procedere con un bello arrococorto la domanda sempre che ci dobbiamo fare è innanzitutto dove andare ad attaccare e parlo soprattutto nei panni del bianco e che tipo di approccio utilizzare per la costruzione del centro quindi si può entrare in un sistema botwinnik si può giocare e3 maniera molto più attendista ma è normale chi gioca di regolari sa benissimo che dovrà cambiare atteggiamento per quanto riguarda la gestione dei due pedoni centrali qui larsen infatti si preferisce orientarsi qui in maniera molto più tranquilla con cavallo f3 preparando l'arrococorto stefano qui gioca e6 libera la casa e7 per il cavallo e poi anche se comunque c'è un piccolo indebolimento delle case scure basterà preservare l'alfiere in g7 arrococorto cavallo e7 dove si potranno poi appoggiare anche future spinte qui d3 quindi già larsen sta svelando quali sono le sue intenzioni qui e4 va sempre inquadrata per certi versi con questo centro che prende il nome di sistema botwinnik proprio per la conformazione caratterizzata da questo centro col pedone arretrato in d3 qui larsen preferisce giocare in maniera molto più semplice di quanto sembra con d3 apera diagonale alfiere camposcuro dove poi potrà cercare anche un'iniziativa a ovest quindi rimane molto caldo per quanto riguarda l'occupazione del centro stefano naturalmente a rocacorto alfiere in f4 dominando questa è la casa migliore comunque per alfiere visto che possiamo pensare anche di sistemarlo in g5 ma qui ci si espone alle perete di tempo con h6 che bisogna decidere l'interrogazione dell'alfiere come viene chiamata come diceva nizuic l'interrogatorio decidere se prendere in e7 quindi tanto vale sistemarlo in f4 dove poi controlla questa ampia diagonale impedisce magari alla donna di andare c7 che può essere un'intenzione un po come nella siciliana con il pedone in c5 tutto per trovare la migliore collocazione per i propri pezzi e allora qui stefano gioca una mossa che apparentemente non sembra correttissima ma che riesce comunque a funzionare ovvero e5 e5 attacca l'alfiere ma naturalmente chiude la diagonale al proprio che non potrà neanche contare qui sulla casa h6 possiamo leggerla anche in maniera preventiva proprio per salvare l'alfiere in g7 abbiamo detto che qui si sono indebolite le case scure ma questo è evidente in ogni struttura ogni situazione di questo tipo e ad ogni modo e5 lui cerca comunque di scacciare l'alfiere avversario l'arsen lo ritira in d2 e adesso arriva d6 evidente qui anche gli occhi di un principiante come questa mossa indebolisca o meglio in realtà e5 che indebolisce la casa d5 che rappresenta un'occasione ghiota per il cavallo quindi saltare subito in questo buco ma naturalmente stefano ha pensato già col cavallo e7 di marcare il suo avversario e adesso arriva il momento in cui proprio si accede al medio gioco in cui bisogna elaborare un piano e qui l'arsen sceglie di giocare tor in b1 naturalmente qui coglie subito l'occasione tipica proprio dell'apertura inglese quella dell'attacco sulla radidona proprio perché con c4 il bianco ha iniziato proprio con c4 ha già ottenuto parte proprio con un guadagno di spazio e naturalmente va tutto supportato con i pezzi pesanti quindi torre in b1 qui gioca stefano gioca h6 profilatica per evitare in futuro anche al fire in g5 attenzione adesso che non può andare più in f4 ma ogni mossa di pedone poi comporta sempre delle case che diventano più deboli e allora qui l'arsen decide di maniera molto strategica di andare a concentrarsi proprio su un attacco diretto a ovest per aprire anche le colonne cercare subito anche di creare un pedone passato naturalmente servirà l'aiuto di più pezzi e lui qui studia una bella manovra strategica con cavallo e1 lo so richiede un po di tempo cavallo e1 cavallo in c2 per appoggiare in b4 quindi decide l'arsen qui di non agire tempestivamente anche perché il nero può giocare a 6 o a 5 più aggressiva per vietare sa benissimo che qui stefano aveva tutti i mezzi per vietargli il controllo della casa b4 e almeno rallentare un'offensiva di pedoni a ovest pertanto lui decide subito di intervenire con i pezzi naturalmente qui questa mossa consente anche f4 quindi si vuole provare qualcosa di più rischioso come sappiamo l'arsen era uno che si esponeva sempre a diversi rischi non aveva paura di niente alfiere in e6 stefano procede con lo sviluppo quindi si accinge a completare lo sviluppo dei pezzi qui dovrebbero pensare anche torre in c8 corona chiusa sono scelte da fare molto in maniera approfondita e allora qui cavallo in d5 un po particolare magari ci aspettavamo tutti il cavallo in c2 per andare sempre a sostenere una spinta in b4 poi all'occorrenza c'è anche l'alfiere in effetti qui sembra proprio prendere come si dice due piccioni con una fava larsen con cavallo in d5 occupa l'avamposto attenzione qui naturalmente non si può prendere di cavallo a causa della forchetta su alfiere per d5 tutto sommato è accettabile come idea il bianco qui prende si doppia i pedoni questa è vero viene un po disgregata l'offensiva a ovest ma comunque il cavallo in d5 un cliente fastidioso e giustamente stefano preferisce arginare quella che è la vera manovra d'attacco in questo momento fabbricata dall'arsen lui infatti come ho detto non solo occupa il cavallo con il cavallo in questa casa forte non mi sono ancora svegliato ma con l'alfiere controlla b4 e quindi poi qui può arrivare cavallo c2 ma di certo con tutti con l'aiuto di tutti i pezzi la storia l'alfiere il cavallo in c2 la spinta b4 diventa sempre più reale per larsen e qui stefano infatti decide di spezzarli questo sogno con a5 preventiva per controllare con ben tre e due pedoni un pezzo la casa b4 cavallo in c2 che viene giocato comunque alfiere per d5 adesso capisce qui stefano che è arrivato il momento di semplificare c per b scaccia il cavallo che occupa la casa b4 naturale qui sembra quasi un paradosso che sia stato in nero occupare la casa con il cavallo quindi l'arsen decide subito di liquidare tutto a per b4 questa è evidente la cattura corretta è prendere con il pedone a strategia di base in modo che dispone in questo momento di una colonna semi aperta quindi già il nero qui ha ottenuto un buon vantaggio poi c'è il pedone d5 bisogna vedere questo come distruggere la correnza perché controlla case fondamentali qui per esempio rende impossibili manovre come cavallo c6 che poi dipende sempre da quello che fa l'avversario quanto è importante una manovra strategica per noi cioè per il nero quindi potrà disfarsi anche di questo pedone e naturalmente trovare poi un modo per concretizzare il vantaggio di sviluppo con i torres una colonna semi aperta e poi cercare di migliorare progressivamente qui arriva ton in b3 ulteriore difesa per il pedone in d5 poi alcuni in alcuni momenti conviene non intestartirsi troppo per la difesa di un singolo pedone quindi non sacrificare troppo l'attività non il pezzo sacrifici ma sacrificare proprio l'attività nel senso di rendere un pezzo troppo passivo sprecarlo quasi dona d7 qui come detto stefano ultimo allo sviluppo e arriva a 3 per interrompere proprio più tutto questo dominio del nero perché qui alla fine il nero ad avere un vantaggio enorme di spazio a ovest b per a3 b per a3 tanto qui la donna in d7 naturalmente e anche profilarsi perché difende il pedone mossa al nero che deve subito qui doppio attacco contro il pedone procedere con un secondo difensore torre in b8 tanto qui la torre in f8 rappresentava un po' come la spalla per il re nel senso di sicurezza nell'arrocco ma nient'altro e qui poi a seconda anche di quello che viene giocato in seguito stefano può riuscire a ottenere un vantaggio e trasformare l'alla di donna proprio nel suo territorio vedremo infatti se e come ci è riuscito mossa al bianco situazione un po' particolare qui difficile a volte trovare un'idea o meglio idee piane di gioco ce ne sono tantissime ma vedere quello che può essere più corretto e alla fine l'arsen ha scelto la spinta f4 abbiamo detto fin da prima quando ha rimosso il cavallo vi ricordate per piazzarlo in e1 manovra c2 per sostenere b4 si liberava anche lo spazio per una spinta f4 che avviene adesso alla diciannovesima mossa stefano decide di semplificare perché qui f4 non so se possa essere veramente considerata poi quando una mossa la gioca l'arsen o un campione assume sempre un altro significato però comunque potremmo forse interpretarla come un'imprecisione posizionale perché qui il nero coglie l'occasione per riprendere ma soprattutto aprire la diagonale e adesso attenzione anche ad attacchi combinati qui torre in a1 un po' raggi x l'alfiere padrone di questa diagonale possiamo già affermare che il nero qui sta meglio torre per f4 mobilita i pezzi pesanti magari per andare a puntare su alcune debolezze qui si poteva scegliere se conquistare più spazio a ovest con b5 ma si potrà fare dopo chiaramente un piano e un'idea non esclude l'altra oppure quella giocata in partita da stefano ovvero g5 quindi attaccare subito la torre per costringerla ad abbandonare la quarta traversa poi a volte è un po' prematuro muoverle e sviluppare le torri così presto anche perché in una posizione come questa che siamo in pieno medio gioco risulta difficile trovare proprio una sistemazione efficace oscillando nella traversa poi in questo caso la quarta ma vale anche in quinta comunque molto complesso su g5 l'arsene decide comunque è una scelta che non mi aspettavo tutti qui giocherebbero sotto la f3, la f2 abbastanza tematica, scolastica quindi su una minaccia tanto non ci possiamo illudere di attaccare con questa torre quindi di retrocese, invece l'arsene ha preferito rischiare qualcosa in più con torne e4 naturalmente non rischiare di farsi intrappolare il pezzo ma e qui poi blocca il pedone quindi ci sono diverse controindicazioni cavallo in g6, qui procede subito migliorando la posizione del cavallo per esempio la casa e5 qui è molto forte l'arsene insiste ancora con la sua iniziativa a ovest poi iniziativa fino a un certo punto con a4 cavallo in e5 occupa una casa forte poi si potranno bene addensare i pezzi per creare un attacco ma Stefano capisce che quello potrà farlo con calma in seguito a5, f5 qui inizia subito a creare delle noie alla torre ed è evidente qui che a5 è una mossa comunque d'obbligo da parte del bianco oppure trovare qualche altra soluzione ad esempio il fiere c3 potrebbe autosommato andare bene ma comunque con a5 lui ha scelto di rimanere con la torre nella quarta traversa guardate qui tutte le case che sono controllate dal cavallo, dai pedoni, rimane soltanto la casa 4 quindi su f5, o meglio prima qui con cavallo e5 casa forte perché controlla come abbiamo detto c4 e g4 creando un campo minato nella quarta traversa e rischiando di intrappolare la torre per questo infatti torre 4 possiamo già vederla come un'imprecisione e neanche tanto lieve da parte di Larsen a5, f5 quindi attacca la torre che deve naturalmente scappare in a4 qui naturalmente si potrà tornare poi indietro nella colonna A quindi è ovvio che non ci siano grossi pericoli b5 attacca ancora la torre che va in seconda traversa qui b4 e il nero conquista spazio e riesce ad avere sempre a maturare un vantaggio progressivo qui già nessuno vorrebbe essere nei panni del bianco in una posizione un po' caotica per certi versi poi gli alfieri si trovano sempre chiusi quindi si può già pianificare una spinta di rottura oppure cercare di chiudersi in difesa questo può comportare più rischi di quanto sembra che a volte la difesa passiva è il miglior modo per perdere e lui alla fine sceglie E3 certo l'alfiere Camposcuro qui non è proprio felice di questa scelta ma se vedete la copia qui è assolutamente stela come vantaggio poi naturalmente spetta al nero in questo caso non fornire l'occasione come ha fatto lo stesso Larsen pericolato F4 ha permesso al nero di sbloccare e di valorizzare maggiormente l'alfiere in G7 dono in D8 qui resisteva i pezzi pesanti tanto qui di certo il nero non ha nessuna fretta di chiudere la partita D4 cerca subito modo per aprire le linee cambio cambio cavallo che salta in G4 qui si potranno controllare altre case forti Larsen preferisce essere un po' più preventivo naturalmente qui c'è un attacco contro il pedone in D4 c'è sempre una mossa abbastanza semplice in questi contesti per difendere se si vuole essere più materialisti ma in senso corretto comunque D4 qui probabilmente sia l'unica comunque perché alfiere in C3 non è patibile alfiere E3 lo stesso comporta grossi problemi D8 si attacca il pezzo per due volte quindi non paga ma mentre Larsen qui preferisce H3 quindi andare ad attaccare il cavallo sacrificando di fatto il pedone perché qui sul alfiere per D4 come ha giocato in partita Stefano arriva un conseguente scacco re in H1 quindi non si può interporre niente e adesso con calma il nero può salvare il pezzo cavallo F2 con scacco qui si poteva anche proseguire con re in G1 ma iniziamo già a vedere le ombre della sconfitta re in H2 e adesso segue anche torre per A5 arriva il momento di far circolare proprio tutti i pezzi in particolare le torri invece anche l'uso della torre corretto da parte di Tatai impreciso da parte di Larsen che invece poi mantiene le torri sane e salve ma di certo non sono molto operative sceglie naturalmente qui di cambiare non c'è bisogno di dirlo perché si ritrova schiacciato quindi cambiare subito i propri difensori per gli attaccanti avversari cambio donna per A5 ottiene un compenso Stefano qui con l'attività della donna attenzione al pedone in B4 che ha attaccato più volte qualche manovra qui può essere provata naturalmente alfiere per B4 andiamo a valutare queste mosse ci poteva stare ma di fatto qui il nero non può prendere l'alfiere quindi si ritrova con la donna auto inchiodata un pedone è sempre un pedone si dice ma è una posizione scomoda poi qui la donna si può spostare non so in A6 forse anche in C7 io la metterei qui in C7 ma anche A6 è corretta fatto sta che il bianco si sarebbe auto inchiodato alla donna e già non è che sia in una posizione brillante questo è un po' come darsi una zappa sui piedi quindi cambio del lettore donna per A5 donna in C2 preferisce qui Larsen assolutamente meglio di alfiere per B4 in questo caso il materialismo non paga va a attaccare il pedone e in questo caso coglie l'occasione il nero per usare il cavallo come scudo quindi sistemandolo subito in E4 naturalmente qui ci si espone a diverse catture tore per B4 è comunque fattibile alfiere per E4 spazzar via subito il cavallo questa non giocata in partita F per E4 naturalmente donna per E4 poi comporta diversi problemi donna in A2 si va a attaccare l'alfiere inchiodandolo e qua bisogna essere costretti a misure non proprio piacevoli donna in C2 ci sosteniamo a difendere ma si perde la torre quindi un attacco ormai imparabile poi Tata è stato ottimo anche dal punto di vista tattico non a livelli di Mariotti ma comunque uno che ha vinto come ho detto 12 volte il campionato italiano difetti mi sembra un po' esagerato in partita qui Bent Larsen decide di prendere il pedone ma di alfiere anche per evitare tatticismi pericolosi e qui segue non la mossa che può sembrare più istintiva cioè torre per alfiere dove nero sembra qui stare bene anche se c'è donna C8 non c'è il dice comunque di un perpetuo il re può disporre della casa H6 stando attento a gabbie di matto ma una variante che non è importante calcolare perché qui sul filo è per B4 Stefano ha preferito dona per D5 quindi lascia subito in vita l'alfiere avversario perché c'è assolutamente di meglio in questo caso innanzitutto adesso il nero è padrone completamente del centro la torre in B8 è molto più attiva di quanto sembra qui ci prova in un ultimo assalto Larsen con donna in C7 va ad attaccare subito la torre in questo caso bisogna comportarsi in maniera un po' più passiva diciamo più preventiva con torre in F8 quindi torre in F8 rientra in difesa per evitare anche il rischio poi di subire scacco allora torre in D1 e qui l'alfiere si ritrova inchiodato può essere attaccato più volte torre F7 prima Stefano preferisce attaccare la donna scacco torre in F8 parla lo scacco donna in C2 e qui naturalmente veniva subito a ritirarla quindi non c'erano altre non si poteva di certo prendere di mille e attaccare l'alfiere in D4 quindi va sul sicuro qui il bianco con donna in C2 torre in A8 tentando una pericolosissima manovra con questo circuito di torre per rambire al controllo meglio occupare la casa A1 Larsen sottovaluta prende un po' sotto gamba questa minaccia con donna in D3 quindi puntando tutto contro l'alfiere in D4 che si trova inchiodato attaccato per ben due volte ma dopo aver osservato bene la posizione Stefano capisce che si può o si deve giocare comunque torre in A1 sostenuta dall'alfiere che è attaccato e inchiodato in realtà in questo modo il nero vince la partita Larsen si precipita con la cattura donna per D4 e sembra subito guadagnare il materiale guadagna un pezzo ma segue torre per D1 e qui naturalmente non si poteva neanche giocare donna per perché qui si perde subito il materiale qualcosa andrà perso inevitabilmente su donna per D4 torre per e la donna è attaccata si possono cambiare le donne comunque si cambio il nero rimane con una torre e un cavallo quindi vince oltre ai due pedoni quindi un finale stravinto per chiunque e alla fine con questo tatticismo il nero è riuscito a vincere la partita donna in A7 preferisce affidarsi come risorsa a uno scacco perpetuo che poi in realtà non c'è donna in D4 per chiudere i conti qui tra l'altro si potevano anche cambiare le donne perché attenzione qui se la donna abbandona il controllo di questa diagonale c'è la minaccia letale con donna in G1 oppure ci si può come un po' in paracadute rischiare il tutto per tutto emergenza e provare con una serie continua di scacchi donna in B8 re H7 donna in G7 scacco re in G6 e qui naturalmente abbandonato non era più possibile continuare a dare scacco e il matto poi era di fatto inevitabile non ci sono tante soluzioni ad esempio alfiere C5 qui c'è anche il cavallo il pedone stesso che possono intervenire per di colfiere C5 per controllare la diagonale naturalmente cavallo per qui donna per D6 con scacco ma non facciamo mosse horror lasciamo l'horror ad altri re H7 donna in G7 scacco re in G6 e qui alla 40 tresima bent l'arsen abbandonato incredibile poi ricordiamo che l'arsen era uno dei più forti in quel periodo aveva giocato anche una sfida proprio urs sì due anni prima urs il resto del mondo in cui lui era in prima scacchiera poi ha perso contro Boris Spassky ma era in prima scacchiera tanto che non c'era neanche un buon rapporto con Bobby Fischer che fu relegato come secondo due anni prima parliamo del 70 la famosa sfida tra unione sovietica e il resto del mondo quindi è chiaro quanto sia importante proprio lo spessore di questa vittoria ottenuta da Stefano Tattai questo è tutto era soltanto un assaggio una delle migliori partite non so quale sia la migliore poi ne aumenta anche un'altra un assaggio del nostro campione italiano quindi ci vedremo sempre nell'appuntamento del venerdì con i nostri personaggi top non sono stati che nessuno di questi è stato campione al mondo della rubrica di questa playlist sui personaggi ma comunque meritano di essere conosciuti quindi ci vediamo venerdì prossimo ciao